Matteo Alfini, Presidente del Partito Democratico, a Piombino per conoscere l'ampliamento del Porto e per valutare anche il momento della siderurgia. Perché il PD a Piombino? Perché il PD tiene a questo territorio, perché il Governo del Partito Democratico ha lavorato per il rilancio di questo territorio, abbiamo assunto gli impegni, li abbiamo rispettati, i lavori si stanno facendo e quindi sono venuto qui a vedere come procedono, come vanno avanti, a ascoltare i problemi, a capire come può aiutare ulteriormente a trovare le soluzioni. Sistemi portuali di Del Rio, Livorno e Piombino, una coppiata vincente? Io credo di sì, naturalmente noi abbiamo bisogno che questo Paese rilanci il sistema di portualità, il sistema di trasporti, le infrastrutture sono straordinariamente importanti per il rilancio del Paese, e per tanto tempo si è fatto in Italia, troppo poco, noi siamo un Governo che su questi temi ha riportato attenzione e soprattutto ha iniziato a fare delle cose, quindi lo rivendichiamo e andremo avanti.